tra l'altro si tratta di pratiche della tradizione pratiche ormai andate in disuso ma cos'è in effetti la sfemminellatura che meraviglia abbiamo già i primi grappoli in formazione ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video siamo ormai giunti nell'ultima decade di maggio e siamo qui su al mio terreno perché intendo mostrarvi quali sono le pratiche da attuarsi in questo particolare momento dell'anno per quel che concerne la gestione del nostro vigneto come potete notare dalle immagini che vi sto mostrando la prima problematica che dovremo risolvere è appunto il diserbo dell'area in cui le nostre giovani viti proiettano le loro chiome procediamo dunque con questo primo passaggio il mio personale consiglio è di procedere con questa particolare pratica nelle prime ore del mattino in questo modo anche se non vi saranno state delle precipitazioni nei giorni precedenti la rugiada naturalmente presente sull'erba correrà in vostro soccorso facilitandovi in parte il compito di estirpazione è ovvio che le pratiche che vi mostrerò all'interno di questo video hanno uno scopo meramente dimostrativo e non possono essere attuate da chi possiede un numero esorbitante di piante tra l'altro si tratta di pratiche della tradizione pratiche ormai andate in disuso a vantaggio appunto della meccanizzazione dell'intera filina e una volta che abbiamo ultimato questo passaggio vediamo il successivo ed ecco l'attrezzo che ci consentirà di portare a compimento lo step successivo si tratta di una zappetta andiamo quindi a movimentare il suolo alla base delle nostre viti ed ecco la tipologia di scasso che abbiamo effettuato alla base delle nostre viti procediamo adesso con l'aggiungere del concime rilascio graduale apporterò una piccola dose di concime granulare per ogni singola unità di questo filare ci avviciniamo infatti al momento delle prime irrigazioni stando all'area geografica dove sorge il mio vigneto so per esperienza che la stagione delle piogge è praticamente finita quindi con l'apporto di un buon ternario mi aspetto al momento di irrigazione contestualmente allo scioglimento dello stesso ebbene mi aspetto di apportare alle mie piante del nutrimento addizionale nutrimento addizionale che permetterà senz'altro loro di superare meglio la calura estiva molto bene è una volta che abbiamo interrato il nostro granulare alla base di ciascuna piante costituente il nostro filare andiamo ad effettuare una prima sfemminellatura e una legatura ove necessaria ma cos'è in effetti la sfemminellatura ebbene con il termine non si intende altro che l'eliminazione del giovane virgulto che nasce all'ascella tra foglia e internovo la ragione per la quale andiamo a praticare la sfemminellatura è in effetti moltissima molto semplice in questo modo andando ad eliminare il virgulto che si forma nella zona che vi ho indicato tutte le risorse linfatiche delle nostre piante saranno convogliate nei tralci di nostro interesse anziché andare disperse in una moltitudine infinita di tratti periferici a 2 4 5 8 6 7 8 9 9 10 14 Guardate un po' che meraviglia. Abbiamo già i primi grappoli in formazione e guardate anche il vigore di questa femminella che aveva già trovato il modo attraverso i viticci di aggrapparsi al filo di banchina. Eliminiamola. Bene, come potete vedere io ho ultimato tutte le pratiche di sistemazione del mio filare di San Giovese, ora non resta a voi che procedere con il vostro lavoro. Ed anche per oggi ho ultimato il mio intervento, mi raccomando con un bel like e inoltre se non l'avete già fatto non dimenticate di iscrivervi al mio canale. In questo modo attivando la campanella sarete sempre aggiornati sui miei ultimi video. Ciao! Grazie!